ciao ragazzi io e piccettino vi portiamo un breve video dedicato all'app bonelli perché ho trovato nella mia nel mio uso di questo weekend qualche cosetta che non mi ha convinto da subito quindi voglio parlarvene immediatamente non ho registrazioni foto quindi parlerò direttamente così a voi allora punto numero uno cosa non mi ha convinto alla base beh ovviamente il layout della dell'app stessa io ho ricevuto lo trovate anche sui miei canali social alcune persone mi hanno chiesto ma dove cavolo sono i fumetti cioè ragazzi nell'app la gente non capiva dove erano i fumetti come è stata strutturata secondo me non funziona bene andava strutturata in maniera più semplice mettere una prima fascia dove c'erano tutti i personaggi potevi selezioni quello che ti interessa vai nella sua pagina e vedi le pubblicazioni magari poi una fascia di ultime uscite quelle che effettivamente ti devi andare a comprare se vuoi e questo poi parliamo dopo e poi per ultima per ultima magari la tua libreria o i tuoi preferiti poi un bel bottone di ricerca che poi poteva portare all'idea molto interessante dei pacchetti non lo so nascita di un eroe spiegazione numeri 100 mitici quella è molto carina però un po più chiara perché ragazzi per trovare realmente i fumetti voi dovete andare sotto nella nella cosa nella lente di ingrandimento e lì cliccandoci sopra trovate sotto tutta la tutta la spatafia di personaggi che sono poi anche divisi e mischiati perché nel senso gli almanacchi di tex vengono messi in un modo come il manacco fantascienza i volumoni quelli del degli approfondimenti sono singoli insomma non proprio fruibile secondo me layout almeno di della pagina iniziale totalmente da rivedere non user friendly decisamente bocciata sotto questo punto di vista altra cosa ragazzi la qualità del fumetto cioè a me è capitato su generazione di martin mister la prima cosa che ho voluto rileggermi mi è capitato di vedere delle delle vignette che erano scolorite cioè ragazzi quella è la qualità che mi aspetto da una scansione pirata non dall'ufficiale bonelli cioè dai raga me la dovete fare bene io devo aprirla e vedere una qualità costante non che alcune vignette erano scolorite con lettering macchiato cioè ragazzi ma cosa avete fatto la scansione degli albi presi in edicola cioè adesso scusatemi va bene tutto ma una ripulita per un'applicazione dove fumetto è a pagamento perché l'abbonamento è un pagamento deve essere di una certa qualità altrimenti è una scansione pirata buttata nella legalità scusatemi questa mi sento di dirla così diretta la possibilità delle fruizioni allora innanzitutto ragazzi il segnalibro automatico cazzo automatico perché è capitato più e più volte che con il metodo che abbiamo tutti che ci viene spontaneo dello swipe che in questo caso non funziona poi ne parliamo si esce dall'app ma se esci dall'app non hai fatto manualmente il segnalibro hai perso il segno devi ritrovartelo ragazzi ma siamo nel 2022 quasi 2023 90 per cento delle app che usano queste cose hanno i segnalibri automatici metteteli in modo tale che se uno per sbaglio o per cose varie o riceve una chiamata e sua è sul telefono deve chiudere di colpo non è che poi deve ricordarsi dove era arrivato apre e trova il segnalibro dove doveva stare altrimenti ragazzi veramente è fastidioso leggere così andiamo poi al proprio alla lettura il bottoncino cioè raga quando uno legge sull'app magari fa come me mette la visualizzazione quella a striscia e gira il telefono e swipe no bottoncino nell'angolino che è di uno scomodo che alla metà basta ragazzi no cioè fate lo swipe oppure fate l'alto basso insomma fate un qualcosa che sia immediato e comodo non scomodo anche perché poi con l'abitudine che abbiamo almeno io ho poi non so se voi ce l'avete di sweepare ci viene spontaneo farlo e no l'altro dice vai a chiudere l'app o vai a sbloccare altro e non va bene assolutamente non va bene altra cosa non intuitiva mettete a posto altrimenti è scomodo leggere lì visualizzazione a vignetta singola a me funziona una volta su dieci devo essere sincero non mi fa vedere bene le vignette quindi non capisco se è un bug dei fumetti che ho provato io o se l'app che gestisce male perché poi ho visto che non succede tutte le volte va un po a botta di culo non lo so anche lì dateci un occhio altra cosa ragazzi la sincronizzazione io ho l'app ce l'ho sul mio telefono che è un samsung s21 fe quindi android e sul pc sul computer il mio computer personale che è un macbook air quindi mac os l'app funziona bene in entrambi i casi tranne che non mi si va a sincronizzare cioè il mio account c'è è lo stesso quindi l'abbonamento vale come giusto che sia perché è multi però se io apro la mia collezione ci trovo due cose diverse non sincronizzate capitemi che non funziona bene una cosa veramente brutta è una cosa che ti dis ti disinnamora dell'app perché se io voglio una continuità sono in treno sto leggendomi un fumetto lo interrompo arrivo a casa la sera voglio riprendermelo su uno schermo un po più grande o stravaccato sul divano bene apro lì e non c'è e non va bene assolutamente non va bene questa cosa altra cosa ragazzi che però questa esula un po dall'app la volevo capire con voi cioè io so che posso leggere gratis fino a un certo punto cioè gratis compreso nel mio abbonamento fino a un certo punto dopodiché c'è un bottone acquista e la domanda è io voglio acquistare un volume acquisto il volume in digitale a 2 euro e 49 mi sembra che sia quello il prezzo tenendo presente però che se avessi la pazienza di aspettare sei mesi me lo troverai compreso nell'abbonamento la domanda è uno che non ha fatto l'abbonamento e va su l'app può comprarli tutti a 2 euro e 49 ok senza abbonarsi mai quindi se uno legge soltanto tex per dire chi se ne frega magari compra quell'albo lì ogni mese e spende 2 euro e 49 ci può stare è una scelta di vita ma io se lo compro oggi tra sei mesi ce l'avrò gratis là gratis nell'abbonamento quindi perché ho speso 2 euro e 49 cioè non sarebbe meglio carabonelli mettere una tariffa intermedia cioè io non sono abbonato entro pago 2 euro e 49 uso il base su un mensile normale 2 euro e 49 me lo pago e sta lì io sono abbonato e voglio aspettare che quella roba io l'abbia compresa nell'abbonamento quindi arrivo a sei mesi quei sei mesi lì me li porto me li porto a casa quindi aspetto sei mesi e ce l'ho disponibile senza spendere altro già speso 9 99 ci sta io sono impaziente però sono anche abbonato dammi un prezzo intermedio una sorta di early access nel senso il costo è 2 49 però io sono abbonato ok quindi dammelo a un euro dammelo a 0 99 un euro in modo tale che io con un minimo di obolo me lo posso leggere in anteprima e non spendo tanto quanto chi non ti dà l'obolo mensile cioè secondo me questa cosa funziona funzionerebbe meglio anche perché mi domando sulla distanza quanta gente effettivamente a questo punto pagherebbe questi 9 90 perché ok il catalogo il repository pieno di roba difficilmente consultabile per quanto abbiamo detto prima però mi trovo un comportamento un po strano ultima cosa le serie ok va bene che c'è scritto classic va bene tutto però dal mio punto di vista una rimpinguata anche con qualcosa che possa attecchire su giovane orfani mercurio loi cassidi demian cioè nata never anche magari un classic di nata never con i primi 100 qualcosa di questo genere dylan cioè credo che sarebbe auspicabile trovare questo accompagnamento all'interno di una app di questo genere proprio perché ok il classic però addirittura il top ragazzi sarebbe se fossero inseriti anche le collane audace da libreria o comunque le collane da libreria perché per dire una persona secondo me potrebbe recuperare tranquillamente l'apocalisse di roi piuttosto di castelli piuttosto che le prime puntate del confine inserite un abbonamento se poi effettivamente salirà da 9 90 a 12 90 secondo me con quei tre euro in più lì queste pubblicazioni si potrebbe anche pensare di inserirle no in modo tale che uno possa anche darsi un'idea poi magari gli piace va a comprarsi i volumi in libreria io farei una cosa un po più completa non fate carabonelli la porcata di farmi la doppia app una è la classica poi l'altra la modern con un altro abbonamento perché in quel caso sarebbe veramente un brutto 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 modo di fare sarebbe una sorta di fregatura di spremitura e non è non sarebbe corretto secondo me io lavorerei su questa app che ha delle buone basi però da lavorarci ecco forse era ancora uno zinzino acerba su alcune cose resto dell'idea che quello che vi ho detto secondo me va chiarito barra modificato subito perché impatta sulla fruibilità su quello che noi ragazzi noi lettori riusciamo e vogliamo avere da questa app perciò vi consiglio caldamente di ascoltare i consigli che vi stanno arrivando le critiche anche che vi stanno arrivando perché oltre me so che ci sono tanti altri il test comunque continua e vi porterà un experience migliore nel corso del tempo però questi puntini mi sentivo di metterli adesso proprio perché mi sembrano molto molto importanti ecco proprio per la sopravvivenza e la fruibilità dell'app stessa con questo però voglio dire che io la trovo un'ottima idea io nel 2022 quasi 2023 trovo che avere un app di questo genere multipiatta multipiattaforma dicevo la sto fruendo sia dal mac dalla quale vi sto parlando sia dal mio telefono personale ma anche da un tablet che mi regalerò nuovo a dicembre cioè per natale così avrò la copiata completa perché il tablet ha la fruizione migliore ve lo posso garantire ecco diciamo che in questo modo si potrà avere se si avrà diciamo una fruizione migliore ecco io sono convinto della bontà dell'operazione che spero venga portata avanti nel migliore dei modi proprio per questo mi metto a fare questo tipo di video per dare il mio minimo modesto miserrimo contributo a uno sviluppo a un suggerimento per rendere il tutto il più fruibile e il più appetibile a tutti ecco non mi dilungo oltre perché ragazzi ho già fatto dieci minuti e volevo farla breve mi raccomando fatemi sapere anche voi se la state usando come vi state trovando se trovate dei bacchi cioè cerchiamo di lavorare anche noi per renderla il più cucita bene possibile su di noi mi raccomando baci abbracci e ci vediamo online